Che il sentiero francescano sia diventato ormai meta e rinunciabile per migliaia di pellegrini è dato assodato, confermato nei giorni scorsi anche dai numeri snocciolati dall'ufficio della piccola accoglienza della diocesi di Gubbio che cura la logistica nel tratto che porta ad Assisi. Oltre 5.000 credenziali rilasciate con una crescita del 100% sul 2017. Ora però ci sono dati ancora più completi che riguardano tutti gli itinerari religiosi che gravitano su Assisi, compreso quello che da Laverna transita Gubbio dove i pellegrini sostano generalmente per visitare sia la chiesa francescana che sorge dove viveva la famiglia Spadalunga sia soprattutto il parco e la chiesa della Vittorina, luogo simbolo dell'ammanzimento del lupo. Ebbene sono circa 22.000 le persone che nel 2018 hanno percorsi i cammini in Umbria da soli in gruppo in compagnia di amici a quattro zampe. Di questo numero record circa 15.000 hanno percorsi i sentieri francescani verso Assisi, molti dei quali passando per Gubbio. Dati censiti dalla Stazio Peregrinorum del Sacro Convento di Assisi, l'ufficio che raccoglie le statistiche relative ai camminatori. A presentare questo studio alla sala stampa del Sacro Convento Assisano, il custode padre Mauro Gambetti, affiancato dal capo ufficio stampa padre Enzo Fortunato, e l'arcivescovo di Lucca, già ausiliario a Perugia, Monsignor Paolo Giulietti, deus ex machina di molte iniziative di promozione e valorizzazione della via di Francesco. Attraverso i cammini si cerca di tornare alle radici della propria esperienza umana, ha dichiarato padre Mauro Gambetti. Monsignor Giulietti ha evidenziato che oltre ai numeri va riaffermata l'importanza del servizio che si dà per poter far crescere ancora sia l'aspetto turistico che quello religioso. Un servizio nato sulla scorta di quello che già avviene a Santiago Recompostela, ma con un'accoglienza più attenta alle singole persone, anche grazie a numeri più ridotti, almeno per il momento, perché i flussi sembrano destinati a crescere anno dopo anno. Da tempo le istituzioni civili e religiose della regione lavorano in sinergia con le associazioni e gli operatori del territorio per promuovere e migliorare l'esperienza dei pellegrini. Un impegno riaffermato anche dal vicepresidente della regione Paparelli. La stazio peregrinorum evidenzia anche particolarità. Sul cammino di Francesco sono in maggioranza gli uomini, 52%, il 91% lo ha percorso a piedi. La maggioranza dei pellegrini sono italiani, anche se la via di Francesco continua a essere battuta da tanti stranieri. Al primo posto i tedeschi, il 26%, a seguire francesi e statunitensi. Ma i pellegrini provengono da 5 continenti, 50 nazioni e oltre 1000 città. Quanto all'età, al primo posto ci sono quelli dai 30 ai 60 anni, quasi la metà, il 49,9%, a seguire gli ultra sessantenni, 32%. Il periodo preferito va da aprile ad ottobre, con un picco ad agosto per gli italiani, mentre gli stranieri preferiscono maggio, giugno e settembre. Infine le motivazioni. Le persone che intraprendono il viaggio, meno di un terzo dichiarano di farlo per ragioni religiose e culturali. Due sui tre invece lo fanno in gruppo. Il Cammino di Francesco è l'esempio reale e concreto dei valori francescani di fraternità, accoglienza e rispetto dell'ambiente, hanno concluso i relatori.